ciao a tutti ragazzi io sono trazox95 e oggi siamo qui in questo nuovissimo video su minecraft perchè da tanto che non lo porto quindi ci sarà tre giorni vabbè sono già sei ragazzi ho preso questa idea da bella faccia quindi non dite tu copi video da bella faccia tutte le robe varie perchè ragazzi lo ammette che l'ho preso da bella faccia l'idea di fare lo scherzo a questi a questi morti maledetti facendo tutti i vostri materiali anche se ragazzi li proveremo con tutti quanti piccolo diventa il room il creeper fanno lo stesso male ragazzi fanno malissimo ragazzi ma che grum aia ma non le mie impressione tolgono di più ragazzi i mob cioè guardate bam poi non lo so mi dice però nome aiuto posso permettermi di morire la c'è una strega se prendiamo vita andiamo da una strega raga il ragno lo facciamo e ora oh si è buggato e ora dove era ora tra l'altro ragazzi sto giocando pure alle 3 di notte impossibile anche tutti questi mostri però vabbè dov'è c'è un villaggio non mi rafforto no dai non so più dove stanno le targhette ragazzi maledetti mob ora me la faccio pagare si trovano le targhette tra l'altro ragazzo sta laggando tantissimo non so non il perché dove sono adesso l'altro non so ragazzi ho possono le mie targhette le mie targhette grumi se le trovo come me la farò pagare maledetto perché raga lagga cioè raga non sono progetti cioè non sono le sono le 12 se non erano le 3 di pomeriggio lo sono ancora le 12 vabbè ci vediamo quando l'ho trovato le targhette ok ragazzi lo ritrovate finalmente dopo 3 anni di ricerca però ragazzi è troppo buio però per non far perdere prendere poco i mob e farvi ridere un po' di più oh un'idea guardate ahia maledetto si raga dormiamo forse è la miglior cosa ci sono mostri nelle vicinanze ma ma mi rende sveglio nome ma che cosa no non credo ahia maledetto zombaccio nome raga perché non va raga ci vediamo quando ho sistemato ok ragazzi ho sistemato tutto ok qui che c'è ho sistemato tutto ragazzi spacchiamo un po' di cosa qui si danno vediamo qua lo facciamo vai guardiamolo no raga avete visto com'è sotto dove produce il latte bellissimo ok non posso però voglio ridere più che accende la nostra cassa smeraldo prendo subito ma dove sono gli abitanti il gattino lo facciamo grumo raga sei fermo cattaccio ma non si può dare il nome al gatto se non sbaglio ok ragazzi a cacchio è stato un creeper bello ecco un abitante ragazzi lo facciamo lo facciamo dai si andiamo 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 ragazzi faccio questo e poi finisco il video nasone vai via non facciamo il maialino ultimo e basta raga si sta bene cammina cammina guardate che brutto va bene ragazzi il video finisce qui spero vi sia piaciuto se è così lasciate like e condividete ciao ragazzi chi mi piaciuto sì Grazie a tutti.